Lo dico subito Perfetto Ok, sta caricando a posto, ci sei grande Sì good luck mate consiglio disattiva lo spectator disattiva lo spectator? si ok a me dice che siamo off io ti vedo su parole boh aspetta ora si è bloccato no no funziona bene assolutamente che non ce ne sono no 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 Il lavoro dell'interprete e del traduttore è sempre più richiesto. Migliaia sono le posizioni di lavoro nei prossimi anni. Il tuo futuro ti sta aspettando. Non mancare l'appuntamento. Iscriviti all'istituto universitario per mediatori linguistici Carlo Bo. Per informazioni e test d'ingresso, vieni il 10 settembre al nostro Open Day. Carlo Bo, parla al futuro. Ecco qua. Quanta aggressività. Quanta aggressività. Quanta aggressività. Quanta aggressività. Quanta aggressività. Quanta aggressività. Oh no 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 no. Agh. Il nostro Paese ha fatto una è la Navea Di슈. Se non mi finisce ora. Andiamo. Vai cura botta. Ehm no. Che c'era eh? C'è qualcuno. Ma questa è la chat sbagliata. Oddio questo, proprio questo no. Secondo, devo scrivere un'altra chat. Eccola qua. Sbagliato ancora. E' il mouse che è nuovo e non mi trovo. Ah, ciao Luna. E c'è Daniel. Ciao. 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 Io non mi trovo con me stesso eh. Più con il mouse che con me stesso, Daniel. Ciao. 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 Questa pesa. Prendere un sacco di danni. Ultimamente stanno giocando solamente agro. Dai. Oh, c'è un problema. No. Vediamo se me ne posso uscire. Ok, a me ne sono uscita. Eh, faccio... Così. ... 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 Ah, finito i segreti Altri due segreti Sto pellegrino Quindi che sarà usato Quello che dà uno a tutti Un altro, non so che segreto potrà essere Solamente un piccolo problema Che si attacca e gli dà ritorsione a qua E beh, io lo silenzio Non è giocato Questa sono altre carte per venirmi in faccia Eh sì, su questo non si dice così Vediamo che è segreto prima di tutto All the sacrificio Pensavo che era quello Pensavo fosse quello Resurrezione No, ritorsione Andiamo a chi Perfettissimo Nato segreto Vediamo cos'è Pensare versione di nuovo A questo punto Vedo che gli ho Non gli ho avvocati due Quindi un noble sacrificio No, noble sacrificio dovrebbe attraversione Può alzare un po' il volume del microfono È al massimo Mi sa che devo cambiare sia musica che Musica, sì Buonanotte Devo cambiare sia mouse che cuffia È l'una, è un bel passatempo adesso Sì, ma tutto quando Vediamo che non vanno bene Caruccio, dai Ok, ritorsione alla bombetta Può essere worth it Vediamo Ho fortuna Ho fortuna Ho fortuna Ho fortuna Facciamo Fa forza Ho fatto il primo attacco Con questo Tra arriva No, 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 no Urgh Vedo questa c'è un danno Quindi avenderà sette danni Il torno di dopo Eh Facciamo così Forza E anche io non ci so giocare Infatti mi sta insegnando un amico Ma son negato Pure Ma questa che ci dico Secondo che c'è il nonno E anche io non ci so Grazie a tutti. Ecco, mio nonno. Un po' dipende da quello che pesco. Eh, non è male. Il gufetto. Vediamo cosa pesca. Uh. Quanto amo sta carta. Eh, diciamo così, ma... Almeno non lo danno, ora non lo prendo. E dovrebbe rammela 4-4, altrimenti rischio di perdere. Quindi fra questi due faccialo 4-2, 4-4. Senza un errore col mano. Attacco ed il servitore diventa 1. Aechio. Lascia il tag, ma è una gioia. Anzi, devo spesso. No, mi lascia il frizzo a boom up. Vediamo un po'. Inutile ora. Eh. Eh. E' molto faccia. No, c'è danni Asse di danni Alla che c'ero Dovrei urlare Ora si sente meglio? Si sente? Prova, prova, prova Eh, devo parlare Così ad alta voce Comunque Facciamo ancora un'altra partita con l'endlock E poi cambiamo deck C'è qualche domanda di Airstan? Chiedete pure, non sono molto esperto Per insegnarvi qualcosa, quindi Risco rispondere più alle domande Piuttosto che insegnare qualcosa che non so giocare bene Tanto tutte le maffancolo Sto giochendo della montagna Non mi piace più di tanto Perché le carte le uso I removal le uso I removal sono tipo come questa Una magia che distrugge un mostro Che si chiama removal Però boh, non mi piace più di tanto Devo trovarmi qualche altra carta Non mi piace più di tanto Non mi piace più di tanto No, domani per dover vendere un nuovo mouse E ricominciamo a fare questa road To master su lol Anche se oggi ne ho fatte 4 Ne ho perse tutte e 4 Addirittura Questa aggressività Kaboom Eh sì Qua ho fatto 4 partite Che erano tutte e 4 partite Ma le abbiamo perse tutte Che così Dr. Boom Brutta come carta Molto brutta Contro Facciamo Così non può potenziare le bombette Da ammassarmi Ultimamente Ultimamente Stavendo pure Un brutto Peridolone Ah Silenzial E quello è bruttino Se gli evoca un Malganis O qualcosa di simile Eh Nemo Facciamo così da Eh sì A breve Non vi preoccupate Sto organizzando tutto E' una cosa che uscirà a breve Devo chiedere prima il permesso a certe persone Che è un torneo molto grande Eccola E poi dobbiamo arrivare ancora a 1000 Noi siamo su facebook Tipo a 970 Quindi Piano piano organizzo tutto Se facciamo così Vediamo cosa esce Nulla Ah che avvento Yeeey Ah vi interatterrò solamente Un'altra mezzoretta Dato che Ho una cosa da fare dopo Quindi Stimiamo per poco Uno perché adesso non è che mi piace più di tanto E ne è andato proprio pazzo Perchè ho più stremato Ma con sto mouse Non riesco proprio a giocare Quindi Questa invece è la versione più aggressiva Questa invece è la versione più di tanto Questa invece è la versione più di tanto Il bonoéri Questa invece è la versione più di tanto Questa invece è una prima Madagascita Questa invece è la versione più di tanto Cosa sentiamo Una Questa invece è la versione è una versione Grazie a tutti. 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 Te le distruggo tutte. Buongiorno. E' il nostro che lunga. Aiuto. Come faccio giocare a Osudorfo. Aiuto. Punto a cagare. Un bel archetto Nono demone In mano, peccato Ho detto tesca è on Che caso ho mai losto dopo E il microfono, non si sente bene Ciao Ciao a tutti Sono Sull'ovetto, sull'ovetto, sull'ovetto Olè Ash Tag finalmente è una gioia Ehi, Jaraxos Questo sorrenda Questo è già Jaraxos, Dani Anche se l'ho evocato grazie a una calangia Quindi ora è sul terreno Però dovrebbe vendere il posto di quest'eroe E diventa io un 315 World Stacatta C'abbiamo la ragazza dei cani lupo qua Calcolo di danni 4 e 4, 8 E 3, 11 E 1, 12 E 4, 16 E 2, 20 Ciao bello Ma se sarei matematico dovrebbe essere fiera di me E per oggi è tutto Ma ci sentiamo domani sera alle 21 Sul mio canale Beh siete solamente Ciao comandino Ma ho chiuso proprio Sto per chiudere E si praticamente Si è rotto il mouse Estos versus Non posso giocare a lol A parte che non ho voglia Che ne ho persi 4 di fila Quindi facciamo domani alle 21 E nulla Ci sentiamo domani Ciao Anzi amfaccia a tutti